Vi diciamo anche che questo è un Paese che ha messo finalmente la marcia nel modo giusto sui posti di lavoro, che l'ha messa sulla banda larga, sulla robotica, sulla diffusione dell'innovazione, sulla riorganizzazione dei centri di ricerca, sulla riforma della pubblica amministrazione, per cui quando farete un nuovo headquarter, forse non una brevissima immagina, visto che avete appena fatto partire i lavori, possiate avere un'interlocuzione ancora più rapida con la pubblica amministrazione, in modo tale da poter avere sì, sì, no, no nel giro di poche ore, nel giro di pochi giorni. Questo è ciò che sta avvenendo in Italia, un Paese in cui, dopo anni di dubbi, la certezza del poter fare investimenti diventa una delle fondamentali carte da giocare a livello internazionale.